La P2 sono i parcheggi che faranno a Milano qua a due piani. È una confraternita come l'alloggio dei frati. La P2 è un'aula universitaria dove tutti gli studenti di tutti i corsi di aula possono entrare e discutere di qualsiasi cosa. È una discoteca molto carina, divertente. Non lo so, è una nuova macchina. È un Rimmel che allunga le ciglie, è quasi il doppio. La P2 non la comprerò mai mia figlia, per la P3 mi informerò e vedremo se ci sono i presupposti.